Un esperimento di ripresa, lungullura, da Rovellasca a Manera. Prendo davanti al blog Sony una lente planiforme e davanti agli obiettivi due filtri polaroid con gli occhialini a preso orizzontale e verticale. Un test divertisima. Un test divertisima. Un test divertisima. Un test divertisima. Il fondo è il sabato dell'acqua. di maniera per sé il pazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non da tanto tempo della regione Lombardia. Si può passare? Grazie, grazie. Sto provando la mia fotocamera, vedere se funziona, con quello che ci ho speso. C'è due obiettivi, così se non funziona una funziona l'altro. Buongiorno, arrivederci, buon lavoro. Sì, attento di non andare fuori. Guardate, il peggio mi dà una mano, no? Si sa qua il controtempo. Ah, giusto. Ma fanno anche la strada verso Bregnano oppure no, lo sa? Continuerà anche verso Bregnano questo percorso qua? No, ah no, ciò perché io non sono di qua. Ah, ho capito. La saluto, buongiorno. Andrò bello a continuare perché dobbiamo tutta l'ora perché c'è un percorso non in là. Va anche il rovello porro, poi proseguendo, però vicino a loro un pochino, finalmente più distante, sempre parallelo, arriva proprio a Saronno, la zona del ciclo dell'ospedale. Giù, mentre qui e là, qua è leggermente più pulita, giù, mentre un po' meno. Siamo a fare delle vasche vicino all'omazzo per scommare quando c'è l'abbondanza d'acqua, ma adesso questa penuria. Entrò bello sia le vasche, sia anche se vogliamo quelle famose paratie di qui, il povero sindaco Bruni di, Bruni, scusi, sindaco di Como, adesso insomma come si chiama, è messo un po' in croce. Lucini, Lucini, mi pare. Seconda persona per me non riscierebbe che fosse ancora rieletta nelle prossime elezioni. Sono bravi persone come il sindaco di Lomazzo, il sindaco di Varese, a di là delle coloriture politiche. All'omazzo c'è anche un vice sindaco giovane, molto bravo, sempre si per disponibile, un ottimo assistente per l'ottima sindacchessa, sempre in chiave, potuto essere sempre in chiave a politica. Penso che mi sia avanti, non si sa più le persone, non si sa più i partiti, ma ci sono le persone che sono più o meno validi, più o meno competenti, più o meno eticamente corrette, più o meno lungimiranti, creative e via dicendo. Con carattere, riuscire a risolvere un po' con cliente istruzioni, che le volte si prendono non facile, con il pro e il contro, che alcune volte si equivalgono, anche a funzione dei segmenti di popolazione, a cui certe decisioni vanno a ricadere. Si vede per curiosità, sul piano vicino, il film è lassù, c'è quello che vi attende, un film d'antan, con Peter Sellers. Si vede su YouTube, forse può comprare in rete, via Amazon per dire, e parla di un giovane prete che va in qualche posto, in qualche paesino frutto della Scozia, in cui, volendo fare troppo le opere buone, per non considerare il contesto in cui queste opere buone vengono fatte, a volte crea più problemi di quelli che la risse sembra risolvere, e il film si conclude che questo è sempre un film, appare un po' umoristico, un po' paradossale, il film si conclude che, con una gemma, riescono a far salire su un razzo, all'avvolto della luna. Adesso siamo verso mezzogiorno, sono le 11.53, il sole sempre più alto. Temperature quasi primaverile, praticamente primaverile. Questa lente planiforme ritengo che magari i contorni sono meno nitidi, però sia un incremento della della profondità, della profondità di visualizzazione, quindi secondo cosa uno preferisce, magari questo aiuta anche il filtro di visualizzazione, il filtro di visualizzazione verticale o orizzontale messo davanti ai due obiettivi, ricavati da un occhialino per visione di film in 3D. l'acqua è molto bassa. Anche sporca, anche sporca, alla volta, come dicevo, alla volta anche più chiara. E così, praticamente, stiamo arrivando alla fine del percorso. Allora, questo piccolo esperimento divertimento. è un percorso simpatico per... sia per fare del jogging, sia per andare in bicicletta. un bel piatto senza buchi, senza problemi. un bel piatto senza buchi, senza buchi, senza buchi, senza buchi, senza buchi. un bel piatto senza buchi, senza buchi, senza buchi, senza buchi, senza buchi. qui siamo arrivati al posteggio. un bel piatto senza buchi, senza buchi, senza buchi. un bel piatto 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 senza buchi. migliorazione locale, liberazione maniera. e anche suonano se nonostante si chiama ancora papagaio nonostante se 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 nonostante mesche nonostante se nonostante la terza ventana, il gioco è divertissimo, è davvero molto più grande da parte, sembra così. La terza ventana, il gioco è il gioco, il gioco è il gioco, il gioco è il gioco. La terza ventana, il gioco è il gioco, il gioco è il gioco, il gioco è il gioco, il gioco è il gioco è il gioco, 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 Sì, rincontro il twisto, è come essere l'asilo. Sì, rincontro. 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 Rincontro. Sì, 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 rincontro. Sì. Sì, rincontro. questo è finito il film di Biotrisman grazie